Dopo sei anni di cantieri, i lavori sul cavalcaferrovia intravedono la bandiera a scacchi del completamento dell'opera. Si entra nell'ultimo mese di lavori dopo il completamento dello stralcio più delicato, quello della sostituzione di tutte le barriere protettive dei yard rail, soprattutto quelli che insistevano in prossimità dei binari. Ora il cantiere attuale insiste sulle rampe d'accesso, mentre a fine marzo si procederà anche agli ultimi ritocchi relativi di illuminazione, asfaltatura e ripristino della circolazione a quattro corsie che determinerà la conclusione dell'opera. Il cavalcaferrovia è un intervento con cui andremo a mettere in sicurezza, abbiamo messo in sicurezza queste barriere laterali, andremo a riprendere i giunti, un intervento con un'illuminazione nuova e verrà anche asfaltato, quindi un intervento che ci consentirà di riportare le quattro corsie sul cavalcaferrovia. Non solo il cavalcaferrovia perché quella zona complessivamente è oggetto di tanti interventi, sempre entro la primavera andremo a concludere il sottopasso dei cappuccini che anche questo è assolutamente un'infrastruttura molto importante perché ci consente di riqualificare una delle aree forse la più degradata che avevamo in città, andremo a potenziare l'illuminazione, prevedere l'installazione anche di videocamere di sorveglianza, andare a realizzare una vera e propria rigenerazione di quel punto importante della città.